129 rifiuti regolari rispetto ai 66 non conformi. Questo è il bilancio dell'ultima settimana per quanto riguarda i controlli. 195 in totale, quelli effettuati dal 17 al 21 maggio sul corretto conferimento dei rifiuti porta a porta. Ancora una volta il trend positivo conferma che il piano avviato dall'amministrazione comunale insieme alla Dasti per combattere la presenza di micro discariche abusive e l'erato conferimento dei rifiuti in città sta registrando dei risultati incoraggianti. Sono sempre di più infatti i cittadini che dimostrano nelle ultime settimane una maggiore attenzione verso il rispetto delle regole in merito al conferimento dei rifiuti. I controlli intanto continueranno ancora nei prossimi giorni. Proseguono infatti gli sforzi per contrastare l'abbandono dei rifiuti lungo le strade e il mancato rispetto delle regole sulla modalità di esposizione dei rifiuti.